Il 2 e 3 dicembre con il forum QualEnergia realizzeremo il sesto pilastro del Recovery Plan italiano. Parleremo di semplificazione per la realizzazione delle rinnovabili, di mobilità sostenibile, di riciclo dei pannelli a fine vita, di biometano. Lo faremo con le istituzioni nazionali, quelle locali, lo faremo con le imprese e con le associazioni. Affronteremo il dramma dell'emergenza climatica che corre ed è per questo che dobbiamo far andare ancora più veloce la rivoluzione energetica.